giorni per stare in disparte ma insieme a pietro giorni di preghiera per infiammare di nuovo il cuore dell'amore di gesù è il percorso disegnato dal frate francescano padre giulio michelini chiamato da papa francesco a predicare gli esercizi spirituali da domenica fino a venerdì scorso presso la casa di mi maestro di ariccia meditazioni incentrate sulla passione morte e risurrezione secondo il vangelo di matteo l'evangelista amato dal frate che ha dedicato molti dei suoi studi a questo vangelo l'unico nel quale compare la parola chiesa e l'unico che ritaglia un grande spazio a pietro una scelta che però è venuta solo dopo un'attenta valutazione un soggiorno a cafarna o in galilea e dopo una inevitabile crisi confesso che non ho dormito per diverse notti dopo aver ricevuto questo invito e in effetti poi adesso sono sereno però la crisi c'è nel senso che mi domando se sarà utile se potrà essere quello che voleva e spero che sia così con l'aiuto di dio insomma noi crediamo che non facciamo le cose soltanto perché siamo capaci accanto alle sue personali riflessioni padre giulio michelini ha scelto di affidarsi ad una coppia di sposi con cui collabora da anni i coniugi maria teresa zattone gilberto gillini chiamate a commentare la parte del vangelo di matteo in cui compare la moglie di pilato ci sono poi pensieri di una suara clarissa di clausura sull'unzione di betania ma ad entrare nelle meditazioni anche la letteratura contemporanea con l'approfondimento su giuda diamo sozz o vari articoli di stampa diciamo che quando leggevo le parole e pensavo a come commentarle mi sono tornati tutti i miei amici tutta la l'enciclopedia diremmo no umberto eco direbbe tutta l'enciclopedia di conoscenze compresi i giornali che amo leggere quindi cito cito gramellini maraini altri autori e giornalisti che mi avevano colpito per le cose che dicevano al di là delle testate sulle quali possano scrivere voglio parlare di gesù cristo questa l'unica certezza di padre giulio michelini che confessa di essersi lasciato guidare dalle parole del vangelo senza essere troppo imprigionato in un filo conduttore anche se emerge chiaramente l'attenzione all'umanità di gesù è stato per me normale passare dalla passione e morte di gesù alla vita di gesù perché gesù muore perché un uomo e se non fosse stato uomo come noi cristiani crediamo non sarebbe nemmeno morto o meglio ci sarà la domanda del perché è morto ma il fatto che sia morto vuol dire vuol dire la sua umanità e quindi sì sull'umanità di gesù ci sarà una un'insistenza importante e poi sulle relazioni certamente però io non ho seguito una traccia perché la traccia viene da sé e proprio quello che faremo in questi giorni non ho scelto ho scelto l'argomento poi sono le parole che corrono una dietro l'altra e la nostra fatica sarà quella di come dice papa francesco quando nell'evangelii gaudium dice cosa deve fare un sacerdote cosa bisogna fare per spiegare la parola di dio la prima cosa da fare rispettarla come si fa con una persona per cercare di capire quello che che vuole dire la sua verità senza super imporre nulla e quindi la nostra fatica sarà seguire queste parole che vanno dall'inizio della passione quando gesù annuncia la pasqua fino al alla pagina della risurrezione